Nei giorni scorsi il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha nominato Anna Laura Orrico, nuova coordinatrice regionale del Movimento, al posto del dimissionario Massimo Misidi. Contestualmente sono stati nominati i cinque coordinatori provinciali. A Crotone, De Grillini, si occuperà Elisabetta Barbuto, parlamentare 5 Stelle, dal 2018 al 2022. Sono molto contenta della nomina e soprattutto molto onorata che il Presidente Conte abbia deciso di scegliere la mia persona per coordinare il lavoro del Movimento in provincia. Spero che potremo lavorare bene in sinergia sia con gli altri coordinatori provinciali e soprattutto sotto la regia della collega Orrico, che invece, come ben sapete, è stata scelta come coordinatore regionale. Da dove si riparte? Si riparte dai territori. In effetti noi non ci siamo mai allontanati dai territori. Se c'è una cosa io posso rivendicare con fierezza è il fatto che durante il mio mandato parlamentare la presenza del Movimento sul territorio è sempre stata costante. Io sono stata sempre a disposizione dei cittadini che, quando mi hanno segnalato dei problemi, ho ascoltato le loro problematiche, le problematiche che hanno voluto sottopormi e per risolvere le stesse mi sono attivata nel ruolo che mi era stato attribuito quello di rappresentante della città di Crotone a livello parlamentare. Tra poco più di due anni si tornerà il voto al Comune di Crotone. Capisco che è ancora prematuro, ma quale sarà la proposta, l'idea dei Cinque Stelle? È chiaro che le nostre stelle polari sono fondamentali, sono innanzitutto il tema ambientale che a Crotone è molto scottante. L'ambiente, ma non solo l'ambiente, sappiamo bene che la nostra è stata sempre un'attenzione rivolta anche nei confronti degli ultimi e quindi nei confronti di coloro i quali hanno bisogno di poter avere un lavoro, quindi dare un taglio diverso alla città, anche sotto il profilo turistico, probabilmente, secondo il mio punto di vista, riuscirebbe anche ad evitare l'emorragia di persone che si verifica in città e soprattutto dei giovani. Un'ultima domanda in questo caso non da ex parlamentare neppure da avvocato, ma da docente. Che voto si sente di assegnare all'amministrazione comunale di Crotone? Direi che adesso la sufficienza mi sembra anche un pochino troppo esagerata. Grazie a tutti.